Si chiama Un dono sotto l'albero ed è l'ultimo dei progetti messi in campo da Avis Giovani. Di che cosa si tratta? Allora, è un'iniziativa nata appunto dal gruppo Giovani, Un dono sotto l'albero, quindi ricordando ecco il Natale, ed è una pesca di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto interamente a Casa Penelope. Grazie al supporto di tantissime attività fanese e non solo, siamo riusciti a raccogliere tantissimi premi che hanno gentilmente e generosamente offerto per questa splendida iniziativa. Quindi l'invito è di partecipare numerosi perché più riusciamo a raccogliere tanti doni per poterli donare agli ospiti di questa splendida struttura. Quando sarà l'iniziativa? L'iniziativa sarà domenica 19 dicembre in piazza 20 settembre dalle ore 15 alle ore 19. Il nostro gruppo giovani vi aspetta sotto l'albero. E Casa Penelope per quali progetti utilizzerà poi il ricavato? Allora, innanzitutto ringrazio l'Avis per questa bellissima iniziativa, siamo sempre molto molto entusiasti della loro partecipazione, della loro collaborazione, ma soprattutto vedere l'entusiasmo dei giovani perché questo ci rende molto felici. I progetti che abbiamo in mente sono tanti, progetti soprattutto di tipo educativo perché abbiamo messo in piedi già negli anni passati dei percorsi di musicoterapia, per esempio per i nostri ragazzi, o progetti di teatro che abbiamo comunque dovuto interrompere purtroppo visto il periodo di crisi. Ci piaceva perché no portare i ragazzi in vacanza, dato che hanno anche loro sofferto di questo periodo molto particolare, ci piaceva riprendere il contatto con la realtà portandoli in vacanza. Grazie all'Avis.